Buongiorno telespettatori e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione cerimonia commemorativa questa mattina al Parco dei Capuccini presso la stele dei caduti sul lavoro in occasione della 73esima giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro. Vediamo com'è andata. Un momento di raccoglimento e la deposizione e benedizione delle corone dall'oro sobria cerimonia commemorativa questa mattina presso la lapide dedicata ai martiri del lavoro al Parco dei Capuccini in occasione della 73esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro organizzata dall'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro ha visto la presenza delle autorità civili e militari. Sì, questa commemorazione dei caduti e dei feriti sul lavoro è sempre una giornata di tristezza per le lacerazioni che un deceduto sul lavoro lascia nella propria famiglia, negli affetti, nelle prospettive di vita ma poi si registra in un momento dove c'è una società in evoluzione dove c'è la violenza verbale e fisica la maleducazione di singoli gruppi e anche degli stati che non danno degli esempi e che siano quello che abbiamo assistito ieri con questa defragazione della guerra ancora di una pace irrisolta non raggiunta tra Israele e lo Stato palestinese deve farci pensare migliaia di morti provocati da missili per i quali si trovano sempre i soldi non si trovano i soldi per costruire, non si trovano i soldi per assistere per aiutare l'umanità a procedere e a migliorare invece si trovano sempre i soldi per distruzioni e queste distruzioni, lacerazioni, lasciano delle profonde ferite nella società mondiale che faranno fatica a rimarginarsi quindi è una umanità intrisa di violenza e ansimante che non è capace di darsi una regola che solo la pace produce futuro, benessere, salute e dignità questa è una lotta per la dignità quindi questa violenza bisogna dire no in tutte le sue forme e questa occasione piccola di fronte alle tragedie del mondo però deve far riflettere nel piccolo come nel grande A seguire poi la messa in suffragio dei caduti sul lavoro e la cerimonia civile presso la Casa Colping a Bolzano